Mi è nascito e io ho detto a venire al barlo, mi sono preso un cappé. E ci sono le persone che se Dio vuole verranno tra un po', perché è una domenica frisca, si sta bene, la temperatura è calata, la temperatura è impicchiata, ha piovuto e quindi si sta benissimo grazie a Dio. Vediamo quello che il Signore ha preparato per noi tra un po'. Poco fa ho di nuovo dato il segreto, il consiglio da un miliardo di euro, l'ho dato a queste persone, hanno ascoltato e poi ho fatto una lettura dal libro dei Salmi, Salmo 104. Ringraziamo il Signore per la Sua parola e adesso stiamo mangiando il cibo solido, cose buone e grazie a Dio come sempre, abbondanza e grazie a Dio.